Almeno qualcuno presentasse dei risultati positivi. Allora, i punti che volevo toccare oggi sono le performance, cioè che risultati abbiamo avuto lo scorso anno, stiamo parlando del 2011, poi presentare un po' l'attrattività turistica del Foxtown, cioè cosa significa il Foxtown per la zona Ticino, per il Mendoisiotto e per tutto il Sottocene, ma direi anche tutto il Cattolo. Poi le novità che abbiamo, i lavori di refit, di upgrading che stiamo facendo e poi i progetti futuri che noi abbiamo. Allora, se passiamo prima di tutto alle performance, direi questo, che logicamente non possiamo dire che è un periodo facile, è un periodo difficile dove bisogna darsi da fare, dove molti nostri possibili clienti hanno delle difficoltà economiche, dove spendono meno.